Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in che modo cerca di alimentare la cultura della cybersicurezza nelle scuole? Noi stiamo cercando proprio di iniziare già dalla scuola dell'infanzia a introdurre questa tematica che è importante ma purtroppo è anche sconosciuta quella della cybersicurezza. Lo facciamo all'inizio del percorso scolastico, alle primarie e poi durante tutto l'indirizzo che porta i ragazzi alle superiori ma soprattutto pensiamo che ci voglia una nuova idea di università con l'istituzione di corsi specializzati perché questo può essere anche un'opportunità lavorativa. Ci sono poi gli istituti tecnici superiori di TS Academy che già su questo hanno degli indirizzi specializzati e che stanno portando avanti queste lezioni, questi corsi specializzati sulla cybersicurezza. In questo modo si cerca di creare una classe dirigente responsabile sul digitale ma soprattutto capace di sventare attacchi e problematiche che possono venire su web. Come stanno andando gli TS Academy? Ha citato dei numeri di successo fino a questo momento? Sì, gli istituti superiori Academy stanno andando bene perché offrono un'opportunità occupazionale molto alta e quindi c'è questa virtuosa organizzazione tra il territorio, le fondazioni, le scuole e le imprese e quindi direi che è una filiera ottima perché i ragazzi si trovino dopo questa esperienza scolastica ad essere pronti e qualificati, soprattutto avere dei diplomi qualificati adatti alle esigenze delle imprese. Grazie a tutti!